bella ragazzi bentornati sul nostro canale oggi vi mostreremo un glitch che vi consentirà di fare tantissimi soldi in pochissimo tempo in realtà non è un vero e proprio glitch ma si tratterà di sfruttare le sfide presenti negli elenchi partite che vi consentiranno di raddoppiare le vostre scommesse per poter fare queste scommesse vi occorrerà una somma minima di 250 mila dollari dopodiché premete start online elenchi partite sfide attendere il caricamento e vedete che in questo caso c'è una sfida nominata a gener dove si possono vincere 250 mila dollari questa sfida consiste nel fare una gara che sarà precedenti penali entro due minuti e quattro secondi scommetterete i vostri 250 mila dollari e se terminate in un tempo inferiore a due minuti e quattro secondi riuscirete a vincere altri 250 mila io proverò a fare questa sfida completamente indiretta perché solitamente tendo sempre a fare le sfide da tre minuti in poi che garantiscono la sicurezza della vittoria quindi vediamo un po' che cosa riusciamo a fare come vedete ragazzi abbiamo superato la sfida finendo in meno di due minuti e quattro secondi ma il mio consiglio è trovare sfide che vi consentono di vincere il premio per minuti superiori non preoccupatevi se nelle sfide non riuscite a trovare quella che vi consente di vincere i 250 mila dollari basterà uscire da gta online e trovare una nuova sessione potete ripetere queste sfide fino a quattro volte al giorno e quindi in pochissimo tempo vincere 250 mila dollari come vedete ho scommesso 250 mila ne ho vinti 500 mila per un totale di 250 mila dollari vinti ragazzi spero che questo glitch o consiglio come volete chiamare sia stato utile mettete un bel mi piace ci vediamo al prossimo video ciao belli